Le cento associazioni commercianti di salò e contorni dai vieni adesso io vengo dritto, fallo uguale eh vengo io adesso vengo con calcio eh vai e che ne facciamo tu al centro vieni qua il papà di Laio è di qua, sii pronta? vieni qua al centro vieni al centro tira il calcio, guardiamo quello che ti ricordi spingi dentro vai è lungo Nicole scavalca bravissima allora allora i bastoncini qua vediamo se ho un paio di ciabatte vai che stanno arrivando ciao buono ciao E a mezz'ora vi stiamo aspettando, alle 10 è potta cosa? Alle 10 non eravamo ancora No, eravate in giro alle 10 No, alle 10 non eravamo Sempre qualcosa che dire Con l'alina vince sempre Redi, redi, redi Tu qua in parte a tre dell'Ave Maria Quanto ti metti in di là? No, è un po' No, ma c'è la parte dai No, guarda, ciao Giro, giro Guarda migliaia e migliaia di foto Dopo mi vede la sua visita Se tu prendi camera Italia Uno Come si chiama? Io ho detto No, non darò un bene Vorresti andare a vendere? Sì, sì Tegniamo insieme Ma lei, dove vuoi? Ma lei, dove vuoi? C'era anche giovedì? C'era anche giovedì? C'era anche giovedì? C'era anche giovedì? C'era anche Noi abbiamo fatto 40 minuti Sì Eh? Eh, ma io giovedì non c'è Eh, non ci sono Adesso ci sei Tu hai preparati per sabato, eh? Noi abbiamo fatto 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 Salute a tutti Dai! Allora ci vediamo martedì Grazie Grazie